buonasera eccoci al solito incontro quotidiano oggi riprendiamo il nostro argomento su quello che sono le meditazioni vari punti che non abbiamo ancora visto iniziamo sempre con la presa di rifugio namo gurubi e namo buddhaya namo sanghaya namo gurubi e namo buddhaya namo dharmaya namo sanghaya namo gurubi e namo buddhaya namo dharmaya namo sanghaya namo try rath худubi e namo tradAsktali ad Buonasera Come abbiamo già visto negli altri incontri Abbiamo curato vari aspetti della preparazione Le pratiche preliminari Giovedì abbiamo una lezione abbastanza Non dico a fondo però abbastanza chiarificante Su quello che sono le pratiche preliminari Il tipo di importanza Perché si devono svolgere durante Diciamo la prima fase della pratica Della meditazione Quello che daremo importanza in questo incontro È l'atteggiamento positivo Nei confronti delle circostanze Come abbiamo già anche diverse volte detto Che è importante sin dal mattino Avere un'impostazione di tipo positivo Pensando a un risvolto positivo di quello che è la giornata Quello che è importante Che può succedere che noi invece Ci alziamo col piede storto O comunque andiamo in una certa direzione E in automatico Poi diventiamo abbastanza irritabili E discutiamo anche di più di quello che è la circostanza Che basterebbe magari lasciare andare la situazione E le cose si potrebbero appenare in modo naturale E quello che si fa in questo caso Con la meditazione Si pensa proprio tutto quello che dovrebbe succedere In un caso di questo tipo Noi prima abbiamo detto Si impostiamo la giornata Pensando come dovrebbe andare Le cose che dovrebbero essere impostate Con il percorso della giornata Poi è chiaro ci sono anche Le circostanze inaspettate Cioè i fuori programma E quindi non immaginiamo proprio tutti i fuori programma Che potrebbero succedere Noi invece immaginiamo Che siamo in grado Facciamo proprio una meditazione aggiuntiva Visualizzando il nostro stato interiore Di rifiuto Di mancanza di accettazione Della situazione E pensiamo proprio che questa cosa Si dissolva con la meditazione Cioè lo visualizziamo proprio davanti Come se fosse un personaggio Lo vediamo Gli diamo anche una forma Ci discutiamo insieme Lo contattiamo E trattiamo come quando si deve andare al mercato Per comprare qualcosa E vogliamo avere uno sconto Moda molto italiana Quelli chiedere sempre sconti E quindi noi vediamo questa cosa La vediamo di fronte a noi La impersonifichiamo di fronte a noi Nella nostra meditazione La osserviamo E gli facciamo come un'offerta Gli vogliamo bene in pratica Non lo cacciamo via Come facciamo di solito Che noi quando c'è qualcosa Che non ci piace La rifiutiamo E proprio la La cacciamo via Dal nostro background mentale Noi invece lo trattiamo Come se fosse un amico Gli facciamo delle offerte E gli chiediamo di essere compassionevoli con noi E di lasciarci stare In cambio gli diamo un'offerta Di cibo, fiori, acqua Come quando facciamo le offerte di fronte al Buddha Gli facciamo delle offerte Gli diamo un bel regalo E lo trattiamo con un amico E lui se ne va tranquillamente per la sua strada Perché una visualizzazione è fatta così Di regalare qualcosa E ciao Hai pagato il conto Può essere una cosa Dice ma che cosa puffa questa cosa Meditare su una cosa che mi dà fastidio Dagli una forma Fargli un regalo E fare in modo che vada via E che poi dopo tutto ritorna esattamente come volevo Che fosse la situazione È una cosa molto Che viene usata anche Da punto di vista proprio della terapia psicologica Se si vuole lasciare andare qualcosa che disturba Quindi noi visualizziamo questo problema Non ci meditiamo sopra Facciamo sempre comunque la preparazione della meditazione Come abbiamo sempre fatto Sul respiro Il posto Prima è un posto molto comodo Molto bello Che ci piace Le offerte sull'altare Col Buddha Abbiamo anche spiegato le offerte Ai cinque sensi Che vengono fatte Con le sette bolle d'acqua Di fronte all'immagine sacra del Buddha Col proprio maestro Si fanno le visualizzazioni Quando siamo in uno stato di concentrazione Di meditazione Facciamo questa meditazione Di toglierci il problema Facendo un regalo Cioè facendo amicizia con il personaggio Che il nostro problema Può essere qualsiasi cosa Può essere anche la suocera Che è in certi patica O il vicino che ci fa i dispetti O soltanto uno stato d'animo Che ci disturba Nel senso che non riusciamo a fare una data cosa Perché abbiamo questa cosa Che non ce lo permette E quindi trattiamo Trattiamo con il nostro problema In modo di liquidarlo E lasciar posto A quello che noi sentiamo profondamente Quindi proviamo a fare Questo esercizio Questa meditazione esercizio Assumiamo una posizione dritta Con la spina dorsale Prima respiriamo profondamente Portiamo l'attenzione al respiro Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Ora di fronte a noi Invisualizziamo Tutti gli esseri senzienti Sopra il nostro capo Guru Buddha Seduto su un trono D'oro Fatto Tempestato Di gioielli In un luogo meraviglioso Inspirando Respiriamo L'energia positiva E le benedizioni Di Guru Buddha Quegli raggi Che partono dal suo cuore Da tutti gli esseri illuminati E completamente Come una pioggia Pervadono tutti gli esseri senzienti Visualizziamo Uno stato Di felicità Il nostro stato ideale Di come vorremmo essere In salute In prosperità Come sentimento Sentirsi Come vorremmo sentirci Nel miglior modo possibile Mentre ispiriamo Assorbiamo Questa energia positiva Che aiuta A portare Stabilmente Questo stato Che noi stiamo immaginando Espirando Emaniamo dal nostro cuore Le cose Che ci danno Fastidio Il problema Un problema Anche magari Specifico Lo visualizziamo Di fronte a noi Gli diamo una forma Immaginiamo Come una palla Come una persona Ma proprio Come qualche cosa Che si prende Forma Di fronte a noi Espirando Quindi noi Ispiriamo Ispiriamo L'energia Di benedizione Dei Buddha Mentre Ispiriamo Immaginiamo Questo problema Che non riusciamo A risolvere Di fronte a noi Come un pallone Qualcosa Che prende forma E che lo vediamo Questa cosa Può essere anche Una malattia Può essere anche Problemi Di qualsiasi tipo L'incapacità Di non trovare Un lavoro Per esempio L'incapacità Di non andare D'accordo Con qualcuno Di non essere In grado Di comunicare Bene Può essere anche La mancanza Di pazienza Di saper Trattare Con pazienza Con le cose Con le cose Questa cosa che si immaginiamo che abbia come delle mani, noi gli offriamo acqua per il corpo, fiori, incenso, profumo, luce, gli diamo delle offerte tutti ai cinque sensi, facciamo offerte anche di cibo in modo molto assorbito, molto bello. Visualizziamo che questo problema accoglie volentieri queste offerte, le prende, ci saluta amichevolmente e poi se ne va svanendo nello spazio infinito. Rimangono le benedizioni di Guru Buddha sul nostro capo che viene completamente a immergerci tutto nel nostro continuo mentale, nel nostro corpo parolamente. Grazie. 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 Mentre inspiriamo, assorbiamo l'energia positiva, OM, A viene a stabilizzarsi, UM si espande e emana benedizioni a tutti gli esseri senzienti. Così come un osservatorio infinito, diventiamo tramite di questa energia di trasformazione di corpo, parole e mente del Buddha. Osserv Moore-ena è una detta stato di un consiglio che hanno un assetsutto. Osserva. 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 Aum. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.